Hanno preso il via nei giorni scorsi e dureranno per tutto il mese di febbraio importanti lavori di sistemazione di una frana sulla strada provinciale 414 nel territorio di Roccadaspide. Una frana in atto da anni che ha determinato un cedimento della sede stradale con il rischio che la strada sarebbe stata chiusa se non fosse stato programmato un intervento risolutivo. Le note difficoltà finanziarie della provincia di Salerno competente per la gestione di questa strada che collega i comuni della Valle dell'Alento a Roccadaspide, sede di uffici, scuole e dell'ospedale non avevano fino a questo momento permesso di risolvere il problema. Così, grazie ad un apposito accordo, i lavori vengono eseguiti dagli operai della comunità montana Calore Salernitano che ha messo a disposizione anche i propri mezzi. Beh sì, queste sono le nuove proposte che sono venute dalla regione Campania affinché noi come ente montano ci occupiamo anche delle strade e tra le altre cose, oltre alla pulizia e al contenimento delle acque c'è anche quello della manutenzione su piccoli problemi di frana che ci sono sulle nostre strade. Nel caso specifico, quello di Roccadaspide, sono aumentate le difficoltà perché la frana si è rivelata essere profonda. Naturalmente noi il nostro intervento sarà solo di manutenzione, non sarà risolutivo, però aiuterà a mantenere la percorribilità della strada affinché i paesi a monte abbiano la possibilità di poter raggiungere in modo veloce l'ospedale di Roccadaspide e il comune di Roccadaspide. Parliamo dei nostri comuni che sono Monteforte, Magliano, Felitto, Trentinara ed altri insomma che percorrono questa strada. Una strada di competenza provinciale ma laddove la provincia non riesce più a garantire per carenza di fondi il mantenimento di tutte le strade in ottimo stato interviene questa comunità montana quindi un ente montano che non è soltanto più addetto esclusivamente alla forestazione ma anche appunto a altre problematiche che poi insomma danno disagi grossi ai cittadini. Beh ecco appunto l'ente montano dovrebbe essere un ente di programmazione invece diventa un ente di servizio ma lo siamo sempre stati, noi siamo vicini ai sindaci del territorio non solo per queste problematiche ma anche per una serie di problematiche anche all'interno dei centri storici dove è necessario che facciamo dei piccoli interventi di manutenzione che riguardano il verde pubblico, creiamo spazi di verde pubblico con panchine per attività ludiche dei bambini, cioè voglio dire siamo vicino ai sindaci in questo momento di massima difficoltà economica e quindi siamo al servizio loro, l'ente questo deve essere, noi poi tra l'altro abbiamo gli operai, abbiamo i dipendenti quindi abbiamo uomini e mezzi per poter intervenire, come dire, dreniamo qualche risorsa che risparmiamo e quindi cerchiamo di essere utili, questo è quello che noi dobbiamo fare. La collaborazione con la provincia naturalmente va oltre questo intervento perché la comunità montana Caldori-Salernitano è uno dei primi enti montani ad aver sottoscritto un'intesa tempo fa con la provincia per la manutenzione ordinaria delle strade. Beh sì, questo viene da lontano, da quando c'era anche l'altra amministrazione, poi con l'arrivo del consigliere Alfieri che ha dato, come dire, forte impulso a questo accordo, a questo rapporto tra gli enti montani e la provincia. I risultati li abbiamo visti, i cittadini sono contenti di quello che facciamo e naturalmente dovremmo avere anche le risorse perché un intervento come questo lo facciamo con piccole risorse nostre però pare sia stimato un intervento di questo tipo sui 300 milioni, sui 300 mila euro quello che stiamo facendo a Rocca d'Aspite, naturalmente quello risolutivo. La provincia avrebbe dovuto investire almeno 50-60 mila euro per dargli in appalto a qualche impresa. Noi probabilmente ce la caperemo con una ventina, insomma, avendo gli uomini, avendo i mezzi, insomma cerchiamo di farli in amministrazione diretta riducendo di molti costi. La provincia ha assunto lì naturalmente noi non faremo un intervento risolutivo e tantomeno finito perché poi il tappetino è a cura della provincia in quanto noi non abbiamo competenze per fare questa azione. quindi noi arriveremo allo stato prima del tappeto di asfalto e speriamo che risolviamo almeno che per dieci anni stiamo tranquilli. Un tema quello della viabilità caro naturalmente anche all'amministrazione comunale di Rocca d'Aspite che tra l'altro proprio nei giorni scorsi ha annunciato un intervento altrettanto importante a Carretiello. Ma sì, quello della mobilità e della viabilità in queste aree è un tema centrale al pari di tanti altri ma questo direi in quest'ultima fase molto di più. Io rispetto a questo intervento che l'ente comunitario sta facendo sulla 414 devo esprimere innanzitutto un grandissimo applauso alla capacità e alla sensibilità che il presidente della comunità montana ha manifestato rispetto ad una legittima istanza che abbiamo in concerto anche con la provincia di Salerno come dire ribaltato sull'ente comunitario proprio perché lì c'era una criticità molto seria che creava addirittura il rischio di una interruzione di questa importante arteria che come diceva il presidente fa riversare su Rocca d'Aspite e sui paesi a valle tutta una serie di paesi dell'entroterra, scuole, ospedale e quant'altro. Per cui questa capacità di intervento sinergico con la provincia, con il comune di Rocca d'Aspite e l'ente comunitario che si è fatto carico di questa azione ci mette nella condizione oggi di risolvere un problema, un problema serio che la provincia probabilmente in questa fase non sarebbe riuscita a garantire e a risolvere per cui è un fatto molto molto significativo a mio giudizio perché da un lato dà conto della capacità di sinergia e di cooperazione che esiste fra gli enti e i sovracomunali e gli enti locali e dall'altro lato perché si riesce a dare concretezza ad una serie di azioni che poi risolvono i problemi della gente in questo caso sulla viabilità ma tante altre azioni l'ente comunitario sta facendo in questa direzione, si accennava alla manutenzione delle strade, alla sistemazione dei valloni, insomma al distesto idrogeologico, quindi un'azione che veramente è importante, che è utile e di cui noi siamo perfettamente grati e fiduciosi che si possa sempre continuare. Peraltro proprio in questi giorni anche con l'ente provincia su alcune strade provinciali è stata pianificata un'azione di intervento, per esempio Carretillo con tre perizie che andrebbero a risolvere anche lì gravi criticità, noi come ente locale stiamo facendo un piano di investimento in questi giorni sulle arterie comunali per cercare di sistemarlo, facciamo le cose che in questo momento sono necessarie per rimettere nella condizione tutta la cittadinanza, tutti gli utenti che fruiscono di queste grandi arterie, di queste piccole arterie tutti i giorni, di poter transitare regolarmente in sicurezza nei limiti e nella condizione di ristrettezza in cui versiamo, quindi insomma merito alla comunità montana, merito alla provincia che si è dichiarata disponibile, è un'azione sinergica che si inserisce in una bella fase di sinergia e cooperazione fra enti.